stiamo arrivando dove c'era una volta la trattoria vittoria che era la sede del comando partigiano qui troviamo un cippo in memoria di due partigiani morti e da san antonio e malano enrico il 19 febbraio del 44 stiamo raggiungendo borgata chabriol stiamo passando vicino un cippo che ricorda il posto dove sono stati uccisi cinque partigiani che sono stati catturati al pra durante l'operazione di rastrellamento lusignolo natchgal e arrivati qui al chabriol sono stati ammazzati e sono lasciati come monito qua in mezzo al prato qui era un prato non c'erano ancora le case perché la borgata è appena lì appena lì sopra qui è il cippo del primo partigiano morte in valle il 3 di dicembre c'è stato il primo assalto alla caserma di bobbio che non è riuscito per inesperienza dei vari gruppi sergio di ena faceva parte del gruppo del sap che poi si è trasferito al palai quindi gruppo del sap e palai in pratica è lo stesso gruppo e avevano il compito di bloccare le colonne di rinforzo che sarebbero arrivate da pinerolo avevano abbattuto in questa zona un grosso castagno e aspettavano i militi però le forze di aiuto erano troppo grosse per loro e sono riusciti a passare lui è stato ferito è stato portato all'ospedale di luserna e dopo qualche giorno è morto chi gli chiedeva come si chiamasse lui diceva a non importa il mio nome e importa che sono un partigiano quindi il primo partigiano della valle che non era né valdese né cattolico ma era ebreo siamo a villarpellice nella piazza intitolata a willy gervis che nella serata del 5 agosto è stato trucidato insieme a altri cinque partigiani qua in piazza catturato al ponte di bibiana che era in motocicletta e aveva dei documenti compromettenti è stato portato alle nuove di torino poi dalle nuove il 5 giù il 5 di agosto è stato portato con altri prigionieri alla caserma di torrepellice e poi alla sera del 5 di agosto è stato portato qui in piazza dove sono stati fucilati e poi i corpi sono stati attaccati agli automezzi e sono stati trascinati per lo stradone verso torrepellice e poi alla sera li hanno messi come monito appesi agli alberi che erano presenti qui gli altri partigiani morti non sono stati riconosciuti tranne il partigiano premier amiero angelo che arrivava da bussoleno che è stato riconosciuto un paio di anni di anni dopo per un paio di scarpe che aveva che aveva delle scarpe particolari e quindi è stato riconosciuto poi per le scarpe